buon pomeriggio benvenuti a questo secondo concerto organizzato in collaborazione con live fidelity con kawai italia e con piatino pianoforti che ci ha fatto arrivare questo bellissimo strumento che verrà presentato da lamberto calderoni tra poco io vi do solo due nozioni su quella che è la registrazione che la nostra parte noi di spiritorino ci occupiamo di registrare con questa tecnica particolare binaurale che prevede uno strumento che simula la testa umana con le capsule microfoniche 2 all'interno di questo orecchio in silicone che va a mappare i suoni esattamente come lo fa il nostro sistema uditivo nel momento in cui riascoltiamo questo tipo di registrazioni il cervello riesce a riconoscere tutte quelle che sono le caratteristiche di mappatura tridimensionale noi siamo benissimo capaci di sentire se un suono arriva dall'alto dal basso da dietro dal davanti quindi nel momento in cui viene riprodotto da un sistema cuffia che è praticamente l'analogo del microfono voi potrete sentire la sensazione di naturalezza di questo suono il segnale viene trasportato a un'interfaccia merging anubis che è un'interfaccia ad alte prestazioni che acquisisce il segnale e poi viene archiviato in un formato 192 24 bit sui nostri file questi file saranno destinati a un disco che zaini l'organizzatore della fiera vuole diciamo proporvi successivamente come testimonianze di queste operazioni che stanno cercando di coinvolgere il mondo della musica dei musicisti con quello dell'alta fedeltà e far capire che la nostra passione poi può coinvolgere assolutamente giovani artisti che avete visto ieri Umberto e oggi è un mi che vi faranno apprezzare la musica con uno strumento fantastico ora devo la parola a lamberto che vi spiega qualcosa in più su questo strumento fantastico grazie di essere intervenuti innanzitutto grazie ad andrea ricci e spirit per questa proposta di collaborazione con questa tecnologia molto avanzata che vi stupirà sicuramente shikuro kavai è un marchio di eccellenza nella produzione di pianoforti nasce in giappone circa 20 anni fa da una fabbrica storica giapponese kawai e ha la particolarità perché è un concentrato di altissima tecnologia nel pianoforte acustico proprio una meccanica molto particolare costruita in una fabbrica dedicata solo al marchio shikuro kavai con tecnici specializzati il risultato è uno strumento che noi pensiamo possa essere possa rappresentare probabilmente non plus ultra attuale degli strumenti da concerto e per cui ecco perché la nostra collaborazione con spirit c'è molto preziosa proprio per cogliere al pieno anche tutte le sfumature acustiche attraverso una tecnologia di registrazione particolare detto questo chiamo sul palco la pianista e un mi park vi preannuncio il programma suonerà la sonata opera 50 di heidin il mefisto waltzer di liszt e la sonatina di ravel e un mi park grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.